Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno oltre alle tue vacanze viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa, inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo, a Roma in via Bartolo Longo 1, zona Rebiglia, telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. E bentrovati, bentrovati, bentornati per chi non è la prima volta che ci ascolta e soprattutto un benvenuto per chi invece passava di qua per sbaglio su www.radiovacanze.com Viaggio e Vedo tutti i colori del mondo, il programma radiofonico unico e solo condotto da un agente di viaggi che si mette a disposizione per dare l'informazione, supporto e soprattutto tanta passione, è la passione che condivide nel lavoro, nel programmare quelle che sono le vacanze e dare valore a chiunque incontra che si mette seduto davanti alla propria agenzia. Subito i numeri per entrare in contatto con noi con Radio Vacanze e Viaggio e Vedo tutti i colori del mondo sono nel 320 46 87 503. Radio Vacanze www.radiovacanze.com Per le domande che potete fare anche dopo terminata trasmissione, ricordiamo che potete riascoltare il podcast direttamente dalla pagina di Radio Vacanze dove vi invito anche a postare sia le domande sia le foto dei vostri viaggi o quello che vi ha colpito che volete appunto riascoltare e soprattutto farci la domanda anche perché le persone cominciano a interessarsi alle vacanze prossime pasquali ed estive e dunque le domande fioccano come pochi. Allora questa puntata sarà veramente particolare, partiremo da due carissimi amici Leonardo ed Elisa, blogger di due valigi e mezza, parleremo di vacanze in famiglia, tra poco ti avrà già di chiamarli, poi andremo dopo una bella tirata con loro e andremo a parlare con Robert, un carissimo amico dei vini, dunque anche lì vini marchigiani buoni, il buon bere, insomma molto altro. Poi vi porterò in Thailandia dal mio amico Domenico, DMC praticamente destination manager che è pronto bravo, vi aiuterò a capire la Thailandia e se ce la facciamo la sorpresa è il collegamento con Lisbona a una fiera del turismo mio carissimo amico Silvio Parlavanti che è lì. Intanto però, però questa la devo dire, questa la devo dire e tenetevi forte, ieri sera era qui Alessandro, carissimo ascoltatore della radio, era qui per prenotare il suo viaggio di nozze con la sua dolce metà. Lei forse non lo sa ma Alessandro ci ha detto, dice ma io la devo sposare ad Antonella, e beh dico visto che stai qua sì e portala anche a Venezia, fargli questo regalo, portala in crociera e con Piera qui della Viaggio e Beto hanno visto un bellissimo programma della MSC Crociere. Ragazzo Alessandro non te la fa scappare Antonella perché qui dopo diventa dura, diventi vettietto, cosa fai? Allora auguri ragazzi siamo qui a aspettarvi per darvi consigli anche a voi sulla prossima vacanza e continuate a sentire la radio, un abbraccio ad Alessandro e Antonella. Allora la regia sta chiamando la Elisa che ovviamente come si sa nella coppia chi comanda è lei e ovviamente noi chiamiamo l'Elisa, ma vediamo chi ci risponde, ma stiamo sorpresi, via. Eccole qui, buonasera, buonasera, benvenuto, come stai Elisa? Bene, grazie. Hai visto che bella ghiacchierata? E tu non dà confidenza, che te ne importa? Tanto stai dentro casa e mica fuori. Ragazzi allora Elisa da dove trasmetti tu, da dove ci stiamo, ti sto chiamando, dai così sentiamo che la direi. Mi stai chiamando, mi stai chiamando a Firenze, anzi per la precisione tra Firenze e Prato, però io ci tengo a dire che noi siamo di Firenze. Eh beh mi sembra il minimo, allora perché due valigie e mezza? No, il blog si chiama www.valigia2mezzo.it Eh ma io te l'ho fatto, la valigia 2 e mezza l'ho fatta la romana, l'ho accorciata. Eh così, è certo. Come è il mio stile. Valigia 2 e mezzo, valigia 2 e mezzo perché due siamo io e Leo, la mezza è la nostra manerottola di quattro anni, Sofia. Ecco perché da dove nasce. Eh qui, ecco, e qui cominciano a nascere le domande. Allora ricordiamo che normalmente sono io che faccio le domande, ma stavolta... Stasera no, le faccio io l'intervistata a sei tempi. Bella, bella roba che mi sono scelto, ma potevo andare a casa a fine serata dell'agenzia? No, 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 divertiamoci un pochino, no? Divertiamoci un pochettino, vai. Allora spara, sono qui, amici e l'ascolto, come fa l'Elisa, voi potete chiamare o mandare un whatsapp al 320 46 87 503 sia durante il programma e anche ovviamente più tardi a radiovacanze.gmail.com per le domande come ha fatto l'Elisa. Allora vai, spara la prima. Allora, visto che è tornata in augissima, non so se si dice, ma l'ho detto lo stesso, dimmi un po', se io e Leo volessimo andare in crociera con l'ananerottola, ci dai qualche dritta? Ecco, questo sì, se forse se ne rendono conto dai tanti spot che passano durante la sera quando uno è a cena. Sì, le crociere sono tornate molto in voca, lo sviluppo, ne parlavo qualche tempo fa con Leonardo Massa, che anzi saluto perché è un bravissimo professionista, Leonardo Massa è il direttore commerciale d'Italia per MSC Crociere, qualcuno se lo ricorderà perché ha fatto anche boss in incognito quando parlava dell'MSC e quel ragazzone alto, cordialissimo. E mi diceva appunto che negli ultimi dieci anni c'è stato un incremento di circa il 300% e continueranno a barare, quest'anno c'è la gemella della Sensi, dell'MSC che verrà avverata il 2 giugno a Civitavettia e poi il 2020 anche le altre due navi. Dunque come vedi è un continuo, perciò sicuramente è un mercato che tira, è un mercato importante. Quello che posso dire è questo, allora se si va in vacanza con i bimbi la cosa importante è prendere la cabina esterna con balcone, questo perché non per un discorso economico e di comodità sicuro, ma perché la cabina esterna con balcone permette di avere i letti bassi ed è determinante perché provate a immaginare adesso tua figlia a 4 anni, ma se tu avessi una cabina interna con letti soprapposti praticamente o tuo marito va sopra e dorme come in caserma o tu hai tua figlia che ce l'hai sopra la testa. Te l'immagini il cavallo di tua figlia che se gira dal letto sopra te a 80 cm e ti casca giù nella notte? No, 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 non mi sembra il caso. Senza contare, senza contare perché come mi ricordo tuo marito e come io non siamo piccoli, la mattina quando tu ti alzi dal letto e magari vai lì per metterti le ciabatte, tu non hai te alle cragnate che dai al letto sopra di te, cominci a rimpiangerti tutto lo sconto che hai avuto per la cabina interna, perché ovviamente la cabina interna con letti soprapposti tipo casermaggio ha un altro costo, era ovvio questo. Certo, su che costi si va più o meno? Guarda, c'è un bel 25% di meno rispetto a una cabina esterna con balcone e rispetto a una cabina interna, le palanche sono tante, però l'importante è che lo sai, è come quando ti fai su una macchina, se hai solo 7 mila euro entri dentro la concessione della Fiat sicuramente qualcosa porti fuori di buono, se vai dalla Volvo ti dicono questo è il volante, queste sono le quattro ruote, arrivederci, ci vediamo la prossima. È così in poche parole, capito? Poi c'è un'altra cosa molto importante, noi come italiani siamo abituati a mangiare tardi, Ora, per questioni di logica e di logistica ovviamente, sulle navi da crociera ci sono più turni di ristorazione, allora, scegliendo una tipologia di cabina interna, categoria bella come la più economica, questo fa sì di risparmiare, ma per esempio non puoi scegliere il turno della cena, no, perciò tu volendo ti trovi a mangiare alle 6.30 come i tedeschi, io penso che l'italiano che mangia alle 6.30 lo devo ancora vedere. No, sì, alle 6.30 noi facciamo l'aperitivo, con merenda. Ecco, allora, per ovviare a questo è possibile, però essendo coscienti, perché sopra c'è il ristorante tipo Grille, tu vai a prendere la pizza, queste cose così, no? E ovviamente lì è sempre aperto, e lì è anche informale, vai come vuoi, ovviamente non in brache di tela, però insomma vai come vuoi e puoi mangiare sempre fino a verso le 11, 11.30, tranquillamente si mangia la pasta, si mangia, che ti posso dire, la pizza, l'hamburger, capito? Però non è servito, assolutamente no, perciò dunque tu sei sicuramente serena, ma è vero, però ecco, non chiedere quello, mentre nella categoria, come ti dicevo io, con balcone, hai delle agevolazioni, addirittura hai anche del servizio in camera, cioè ovvero se non ti va di scendere a far colazione, puoi lasciare il cartellino dietro la manilla, dove tu lo riempi, domani mattina 8.30 per cortesia, due caffè e due cornetti, uno yogurt per la bimba, ecco queste cose semplici puoi riceverle in cabina gratuitamente. Sembra che sei lì, però non è male, perché magari la bimba non ti ha fatto dormire, tu hai comunque, e poi ancora una cosa molto importante, questo in particolar modo l'ho vista sulla MSC, e sì, anche sulla costa, cominciano a fare dei bei angoli per i bimbi, dove tu se vuoi puoi lasciare la bambina dopo i tre anni, non tanto piccola no, anche perché se no stai con un po' il pensiero, ma quando è come la tua, ci sono dei bravi animatori che fanno compagnia come se fossi in un asino nido, allora magari tu scendi a Barcellona e la bimba rimane a giocare con gli altri bambini su, capito? È possibile questo, questo è importante. Ecco, questo non male, anche perché a volte anche noi genitori, che siamo abituati ad andare in giro sui mondi e portarti i bambini, però magari ci fa piacere farci due ore di passeggiata per conto nostro, vedere due vetrine, piuttosto che vedere un museo veloce. Certo, certo, certo. Insomma, non c'è più. Beh, ne vale veramente la pena, così tu perlomeno lo sai, ecco, sai che puoi lasciarla serenamente e nessuno ti dà noia, capito? La bambina sta serenamente tranquilla. Senti, io direi, dopo questa riattirata, di fare una piccola pausa musicale con dei carissimi amici, ti ripeterò i Palasport e rimani con me e continueremo poi a parlare con le altre domande. I Palasport è qui... O poi non mi muovo. È sta lì, non ti muovo. Radio Vacanze, I Palasport, Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo, ti ripeterò. Se non sai che fare, se non sai che cosa dire Non ci stare male quando senti quelle amiche Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce Non ti fare male, sei bella come il sole Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli lunghi Non ti rassegnare, spezzerò le tue paure Non vuoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi Non lasciarti andare, ti consumi solo il cuore Ti ripeterò, ti ripeterò Che ce la farai, che ce la farò Ti ripeterò che sarò con te Che dal fondo ti alzerai Ti ripeterò, ti sorprenderò Quello che non hai ti regalerò Ti ripeterò, ti ripeterò Ti ripeterò, non permetterò Che tu spenga gli occhi tuoi Ci ripenserai quando ti ritrovi sola Se ti chiudi un bagno e ti metti un dito in gola Segna sul diario che il destino scritto non esiste Ma mano nella mano ci riprenderemo il mondo Ti ripeterò, ti ripeterò Ti ripeterò, so che mi odierai ma non morirò Ti ripeterò, morirò per te Se dal fondo ti alzerai Ti ripeterò, mi dirai di no Sui cubi che hai, mi trasformerò Ti ripeterò, che ce la farai Perché ti risverderai Ti ripeterò, mi dirai di no Sui cubi che hai, mi trasformerò Ti ripeterò, che ce la farai Perché ti risverderai Non lasciarti andare Che sei bella come il sole Porte aperte tutto l'anno a Roma Con viaggio e vedo in casetta di Roma Soggiorni a partire da 25 euro per persona a notte Chiamalo 06 410 36 36 al nome di Radio Vacanze Riceverai la guida di 32 tour su Roma Da fare in libertà Radio Vacanze presenta Innamorati di cuore e coccole I weekend romantici di Viaggio e Vedo Quando la coppia ha il cielo in una stanza La felicità qui a Radio Vacanze è di casa Per informazioni chiamalo 06 410 16 80 O vieni in agenzia da Viaggio e Vedo In via Bartolo Longo 1A Zona Rebibbia, Roma Viaggio e Vedo Protagonisti del tuo tempo libero Quest'estate il bello diventa possibile in Puglia Tornano le grandi proposte con Radio Vacanze e Viaggio e Vedo Strutture interessate Stutture interessate Ticcio Slido Hotel Torre Sintola Natural Sea Emotions Argonauti Club Resort e Spa Hotel Marinagri e Spa Borgo Bianco Resort e Spa M Gallery by Sofitel Per informazioni chiamalo 06 410 16 80 Oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo In via Bartolo Longo 1A Roma Quest'estate il bello diventa possibile in Sardegna Tornano le grandi proposte con Radio Vacanze e Sardinia 360 In collaborazione con Viaggio e Vedo Strutture interessate I giardini di Cala Ginetro Hotel Resort Hotel Club Saraceno e Palmasera Village Resort Per informazioni chiamalo 06 410 16 80 Oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo In via Bartolo Longo 1A Roma E bentornati, bentornati qui con Giallo Vigia Radio Vacanze Vi aggevito a tutti i colori del mondo Siamo con la nostra amica La blogger di professione Elisa Mazza che presentazione Ciao da lei, mamma mia Ma l'hai visto quanti amici so come Radio Vacanze Come strutture, quanta brava gente Guarda che sono veramente capaci Dopo circa 6 anni di trasmissione Appunto radiofonica Condotta prima con altre emittenti E poi da 4 anni come Radio Vacanze E ormai è l'unica radio del turismo O perlomeno la prima nata E poi i secondi sono secondi Diceva quello E abbiamo fatto Abbiamo fatto veramente tante cose E soprattutto tante realtà A favore dei passeggeri Ecco, intanto saluto la mia connella Di Iceway Travel di Pomezia Che mi segue sempre e soprattutto Mi controlla Perché devo fare quello che dice Ciao Antonella E grazie ancora per l'ascolto Allora, tornando a noi Noi stavamo parlando Ti stavo intervistando Già, mi ero scordato Cercavo di prenderle la guida Ma non ci riesco Allora, dopo le chiacchiere Credo che tu Prima di chiudere il periodo Conviene parlare un attimo Delle bevande Perché molti ti chiedono Ma io le bevande le pago Già, è vero Te lo dico Considerato dei bimbi Bravo, esatto Che poi Allora, è possibile Acquistare dei pacchetti Preconfezionati Praticamente se Mettiamo in caso Il pacchetto dell'acqua Se sono dieci bottiglie Ne paghi otto Tirare le somme Via Capito? Questo è quanto Però Di gratuito Di gratuito Esiste Cioè Tutto ciò che tu Hai da dispenser In realtà Tu non lo paghi Cioè L'aranciata Quella che c'è L'ace Che c'hanno I succhi di pompermo L'acqua Che tu prendi A bittiere Dal dispenser Tu non la paghi Solo che Dico io Secondo me Non è Non è il caso Capisci L'acqua in bottiglia Costa circa 3 euro Dunque Se tu Spendi Anche se spendi 20 euro D'acqua Non succede Niente Perlomeno Prendi l'acqua Sigillata Giusa Stai serena Non hai il problema Della diarrea Del viaggiatore No Vaglio a dire Non si sa mai Quella è la cosa Più tremenda Appunto Allora Siccome non ne vale la pena Poi Le bottiglie del vino Beh io dico Se ti fa di piacere Bevi una bottiglia di vino Un po' come ristorante Si va dai 15 euro Insomma Ecco Non è Ci sono anche a calici Se uno vuole 5 euro Ti prendi un calice Di vino rosso E Passa la paura Capito Mentre ugualmente Per i caffè I caffè Stanno sull'euro 80 L'euro e 90 Quello Sono Normalmente Sono pacchetti Da 20 Dunque Come vedi Ce n'è tanta L'importante Sapere uno Veramente Quello che desidera E ancora Quando io scelgo L'itinerario A seconda Se sono famiglia Cerco di Itinerari più facili Che non hanno Sbarchi In rata Ecco Tenete presente Amici Segnatelo Per i tuoi blocchi Gli sbarchi in rata Sono quelli Dove la nave Non attracca In banchina Ma si ferma A una certa distanza E vengono Le navette Le barchette Sotto il bordo Dove tu ti imbarchi Con le persone E scendi Poi ovviamente Vieni traghettato In poche parole Ovviamente Con bimbi Diventa un po' Non difficile Perché persone Come te Lo fanno Però sai Passare il passeggino Sulla barca Poi passa la bimba Cioè È un po' Così Allora magari L'importante È che le persone Lo sanno Ok Seconda domanda Seconda domanda Facciamo che te ne faccio Una facile Meno male Guardami un po' Ma sono buona io Allora Una cosa semplice Semplice I villaggi I bimbi E i villaggi Perfetto Allora La cosa No Per chiarità Guarda È storia di tutti i giorni Allora ragazzi Bimbi e villaggi Allora intanto C'è da capire Guardate bene Le tabelle di prezzi Perché dove sono Bambini free O bambini al 50% E sono comunque Strutture recettive Che accettano i bambini Dove invece Trovate Bambini sconto 10% 15% Rispetto ad un adulto Sono strutture Che Non accettano Bambini Ma non possono Scriverlo Perciò Ovviamente Se tu sai Che tuo figlio Paga quasi quante Te cambino Perché E poi Non sono magari Neanche attrezzate Capisci Allora Si usa questo Escamotage Tra virgolette Che ho notato io Tanti anni Di turismo Che ti mettono Questa scontistica Molto bassa E tu vai Ovviamente Da un'altra parte Oh Attenzione Anche perché Se io devo andare In un villaggio E dove stare A dire No Questo non lo puoi fare Quest'altro Non lo puoi fare Quest'altro Ancora Non lo puoi fare No Va in cambio Allora Poi Attenzione Poi ci sono Tante realtà Per dire I baby I baby I baby Io secondo me I baby È vero che la gente Te li chiede Anche se c'hanno Un anno e mezzo Ma c'è il baby Ma tuo figlio Con un anno e mezzo Ma mi dici Dov'ha Io non è cattiveria Però A me i bimbi Già quando è come la tua 4-5 anni Posso capirlo Ma fino a quella età là Tu praticamente È un parcheggio Che fai di tuo figlio Capisci che voglio dire Non hanno Allora Se ci sono Tipo Valtour Tipo Il bravo club Di Franco Rosso E di Alpitour Quelli sì Sono molto attrezzati Per i bimbi Anche dai due anni Solo che poi Dopo ti fanno pagare Come la Volvo Questo è poco Ma è sicuro Capito Voglio dire Anche perché C'hai la responsabilità Di un bimbi Perfetto Un'altra struttura Che io trovo Da segnalare È sicuramente Il club Nicolaus Di Sette e Sette Mari Quindi sono Buone strutture Ovviamente Paghi qualcosina in più Però Una cosa interessante Ragazzi A parte l'offerta Ecco come io Magari ho fatto Dei contratti Con Sardinia 360 Villaggio club Palma Sera Che avete sentito Ecco lì È un accordo Importante E diretto Che ha fatto La radio Con la struttura E il tuo operato Allora ha delle tariffe Agevolate Ma parliamo normalmente Di standard Se trovate tariffe Molto basse Molto Fatevi una domanda Perché La persona Che va a fare La spesa Per quello Che riguarda Sui 500 600 persone Che c'ha come ospiti Magari Dico un esempio stupido Parliamo di fagiolini I fagiolini Ci sono di prima Di seconda Di terza E di quarta scelta Ovviamente Se tu paghi 30 euro A notte In pensione completa E secondo te Che fagiolini Te mangi Di quinta Ecco appunto Ecco Questo va preso in esame Cioè sotto un certo No ecco Perché io dico Affidati a una gente Di viaggio Che ti dice le cose Come stanno Cioè è meglio Di dirottare Di dirottare Che magari star male Per quello Allora Questi sono tutti Piccoli scherzi Ovviamente Se tu prendi Un villaggio Tipo Torre del Faro Che sono Mille camere Amore mio Mille camere È un paese È poco da fare È normale Se tu cerchi La tranquillità Non è quello Il villaggio Per te Capito Poi Quando sono Questi grandi villaggi Spesso e volentieri Mettono anche Gli ombrelloni In prima e in seconda fila Con riservazione Significa che tu Oltre alla tessera club Paghi un X quota Per avere l'ombrellone Tuo di diritto Che nessuno ti occupa Nella prima E una seconda fila Perché è possibile Anche questo Ecco Questa è una Cercare di capire Bene Quando tu fai la domanda Alla gente di viaggio Che tipo di capacità Recettiva Ha il villaggio Perché più Inferiori sono le camere E più è vivibile Questo Capito Che voglio dire Molta attenzione Certo Io per dire Quando mi chiedono Qualcosa di più tranquillo Do il ticos Club A Castellaneta Marina O il Marinagri Che sono due strutture Veramente di primo livello E molto Molto Quando vuole fare Tanta cacciara Proprio tipo Piazza del Mercato Li mandi al Valentino Club Dove c'è praticamente La Bolgia Proprio Infine È una manifestazione Di piazza La sera Esplode Capito Allora Ecco appunto Va Stavo parlando di Sardegna Mi stai No Questo Ho fatto un po' Tutti e due Sono saltato D'una parte All'altra Perché comincia Ho Silvio Parlavanti Che mi sta chiamando Da Silvio Ti voglio bene Ma io sto parlando Sto intervistato Non posso dire La dico Chiamami La diciamo Perdi Ah ecco Mi diceva Antonella E la mia collega Vedi che mi seguono Anche Blu Serena È un prodotto Adatto alle famiglie Però comunque Va spiegato Il segreto Del risparmio Sta nel comunicare E fare La domanda Giusta Alla gente Di viaggio Guarda Le mie condizioni Sono queste Le mie necessità Sono queste Cosa posso fare Con questo budget Quella È la domanda Magica Quella che ti apre Proprio il mondo Che vedi Che esce la nuvoletta Da sotto La schifania E ti fa il pacco regalo Ecco Questo è quello Che tu Sicuramente È calzante Invece che il genio Della lampada È il genio Della cenzia Esatto Bravo Ecco Intanto salutiamo Anche Jacopo Il ragazzo Che fa il miele Con la sua signora Perché dice Bene anche oggi Perché Vediamo un po Che mi dice Perché oggi È il mio comprenato Auguri Jacopo Te lo ricordi Jacopo Quello del miele Del miele Che abbiamo conosciuto Lì in Marticiano Oggi è il comprenato Jacopo Auguri 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 Ecco qua Auguri A Jacopo E la sua signora Che fanno un miele Da paura Dalla radio Così Lo capisci Intanto io sto scrivendo Come dico a tutti Su Whatsapp Allora L'azienda sua È L'apicoltura Bio Di Feduzzi Giancarlo Nelle Marche Vicino a Urbania Veramente bravo Andiamo avanti Velocemente Con le ultime domande Che mi dicevi Ti faccio Un'altra domanda Easy easy Hotel e appartamenti Come riconoscere Quelli Debbie E kit friendly Ok Allora Soprattutto quelli adatti A famiglia Perché gli alberghi Hanno diverse tipologie C'è il sito hotel Che è un albergo Strutturato Per un soggiorno Massimo Di tre notti Oppure Ci sono i resort Che vanno Dei soggiorni Da tre ai sette notti Quella è la differenza principale Ovviamente Due sorti Attrezzate in una maniera Il sito hotel In un'altra Da fare attenzione Molta al prezzo Dell'albergo Anche E le tasse di soggiorno Per esempio Qui a Roma Le tasse di soggiorno Per un albergo Quattro stelle Sono sei euro Cada uno Dunque Se tu sei una famiglia Di quattro persone È vero che puoi risparmiare Qualche soldino Sull'albergo Forse Ma Paghi sei euro Al giorno Di tassa di soggiorno Quindi Un giorno Sei per quattro Ventiquattro Brava E quelle non vanno All'albergo Non vanno all'albergo Quelle vanno Al comune di Roma Ecco appunto Non vanno E si stroficcia le mani Bravo esatto E lasciamo andare Una cosa importante Invece diciamo Come avete sentito Carissimi amici Rascolti Come dico anche a te Hai sentito la pubblicità Degli appartamenti Di radio vacanze Qui Allora noi abbiamo Viva Dio Questa opportunità Noi con Con 25 euro A persone Facciamo stare le persone Qui e sono vicino Alla metropolitana Ecco questo è un altro Tipo di soggiorno La vacanza in appartamento Però bisogna stare Veramente attenti Con l'apertura Di queste cose Hanno fatto tutti Sono tutti diventati Albergatori Poi che vai là Non sai mai Che cosa Che cosa trovi Capito È molto importante La vacanza in appartamento In particolar modo L'ubicazione Perché se Qui ci sono degli appartamenti A 18 euro a notte a persona Però praticamente Stanno sulla salaria Con le donnine Che ti passano sotto Capito Voglio dire Che bello Adatto per una famiglia Appunto Capito Però la gente Non lo sa Dice Ma io ho trovato quello Ed ecco qui Lo scherzo Capito Hai qualcos'altro Da chiedermi Mandiamo prima una canzone Mandiamo una canzone A via Di domenica Di Gianni Rizzato Il nostro amico Di domenica Qui a Radio Vacanze Parlo in questa radio Che mi mette l'energia Dopo un sabato italiano La domenica Sempre più mia A te che ho chiesto Sempre io chi sono In questo giorno Che Non sapranno dove sono Non sapranno mai la verità Di domenica si ride Di domenica si libera La mente via Dando spazio alla fantasia Di domenica si parla La 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 Di domenica si canta Si fa festa nei pianeti Con le nuvole sui prati Con le stelle dei presepi Di domenica si ride Con l'estate che verrà E' quel popolo sovrano Che rimane qui in città Sono senza la mia moto E la vita non apprezzo Cercherò tutte le cose Che non ho La domenica in famiglia Faccio festa Poi riposo con il cane Senza avere il mal di testa Tu che oggi sei il mio presente E domani il mio futuro Che verrà Come goccia di rugia Dal primo sole scappa via Tu che sorridi Tu che sorridi già Di domenica si ride Di domenica si mangia Di domenica si libera La mente via Dando spazio alla fantasia Di domenica si parla La 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 Di domenica si canta Si fa festa nei pianeti Con le nuvole sui prati Con le stelle dei presepi Di domenica si ride Con l'estate che verrà E' quel popolo sovrano Che rimane qui in città Sto scattando le mie foto E la vita non apprezzo Comprerò tutte le cose Che non ho Di domenica si gioca La domenica si suona Di domenica riposo Festa e festa A te che ho chiesto Sempre io chi sono Sto parlando E raga E sono solo E adesso arrivo Forse un altro lunedì 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 Di domenica si canta Si fa festa nei pianeti Con le nuvole sui prati Con le stelle dei presepi Di domenica Porte aperte tutto l'anno a Roma Con viaggio e vedo E casetta di Roma Soggiorni a partire da 25 euro Per persona a notte Chiamalo 06 410 36 36 A nome di radio vacanze Riceverai la guida Di 32 tour su Roma Da fare in libertà 5 I continenti da visitare 4 Le stagioni dell'anno 3 I viaggi da fare in 12 mesi 2 Le valigie da preparare 1 La radio da ascoltare Radio vacanze Bentornati a Gianluigi Radio vacanze Tutti i colori del mondo Sono qui ad essere intervistato Dalla blogger Elisa Elisa Quante me le hai dette Ma hai trovato però Hai trovato preparato Chi te Ma io mi pare proprio Che tu sia Una delle persone più preparate Turisticamente Che io conosca E beh Io come diceva Nonno Non faccio il macellaio Non faccio questo Invece a Firenze si dice Un si frigge Mica con l'acqua Ah ecco a posto Ci sono tante Ma comunque Molte mi hanno preparato Anche la mia amica Antonella Dell'Ice Il Travel Molto bravo Silvio Pallavanti Insomma Ce ne sono di colleghi bravi Voglio salutare anche Un collega che sta male Alessandro Un supporto Del gioco viaggi Di Genova È molto bravo E sta maluccio Mi ha detto Lui vorrei intervenire Ma sto male Vabbè Allora li facciamo I sacudi Di pronta guarigione Lo aspettiamo In trasmissione Diversamente Allora Che manca L'ultima domanda Vai L'ultima domanda E qui è una cosa Che mi preme tantissimo Abbiamo tre minuti Vai Raccontami un po' Come gestire i bimbi In volo Quindi Come si fa A volare con i bimbi Ok È una cosa Che mi preme tanto Perfetto Intanto cominciamo a dividerli In infant E child Sono due cose Completamente diverse L'infant È da 0 A 18 mesi E Dicevo Scusami 24 mesi Dopodiché Diventa child E la differenza sostanziale In che uno Non ha diritto Al posto Viaggia In braccio Alla mamma Mentre Il child Ha diritto A posto E paga La tariffa Ovviamente ridotta Più le tasse Mentre l'infant Paga solo le tasse E quando sono Particolarmente piccoli Se si ha la bontà Di servirsi Di un agente Di viaggio Come si deve Si può richiedere Anche la basket Che è la culla A bordo Questo è molto importante E hanno anche Dei posti Riservati In aereo Quando si fa L'accettazione Perché ovviamente Viene sempre Tutelato Come un discorso Di emergenza Allora Hanno dei posti In cui Ecco per dire Tu non troverai Tu non troverai mai Un child Seduto al corritorio O vicino Ai posti Di emergenza Non è proprio Compatibile Allora Se ti fa spostare Poco ma è sicuro Quella è una delle cose principali Un'altra cosa Che mi intendo a dire Molto importante Che succede spesso In un aeroporto Che i genitori Si scordano I documenti Dei bambini Molto importante Ripeto Molto importante Prima di andare In un aeroporto Controllare Che sia in ordine Con i bambini Perché ho visto Farsi altare Tour da 10.000 euro Perché si erano scordati Il passaporto Del bambino Se siano tranquilla Che questo succede Tutti i giorni Che Dio manda in terra Poco ma è sicuro Un'altra cosa importante Con le famiglie Di nuova generazione Sai quelli che viaggiano Solo il papà O con il figlio Se cos'è Ci sono Ci sono E molto importante Ecco Se si viaggia E si ha Un corso Di separazione Mi raccomando Il permesso Del genitore Perché Se no Sono dolor di pancia Anche lì si arriva E dopo Il bambino In particolar modo Se è minore Si rischia Che si rimana a terra È una cosa Antipaticissima Perché poi Vengono Ci sono tutte Ogni compagnia Le sue regole Una cosa importante Che devono sapere tutti E questa scrivila Importante Quando tu Prendi un aereo Facciamo conto Fai Roma New York Che dico la festeria O anche un semplice Roma-Londra Ma non viaggia L'Italia Viaggia british Non è più la legge Del territorio italiano È legge inglese O legge americana Tu fai un falsetto Festeria Rispondi in base Alla legge di quel paese Perché quella romana È territorio americano O territorio inglese O francese che sia Attenzione Questa è una cosa Molto molto importante Perché poi Bene che sappiano tutti Bene che sappiano tutti La compagnia aerea È territorio di quel paese Forse il suolo del paese Sì signore Ed è molto importante Perché tanta gente Ha fatto l'ironica A bordo Dell'american E quando è sceso La nottiappata È buttato dentro la cella Ci vedremo prossimamente Il minimo che ti fanno È ti rimettono sull'aereo E ti fanno tornare indietro Poco ma è sicuro È meno male No Un'altra cosa Molto importante Tornando sempre Appunto ai bimbi È l'intrattenimento a bordo Perché specialmente In un volo lungo raggio Bisogna far far cose Bimbi Allora normalmente Vengono dati Di intrattenimento Ecco Ma lo fanno Soprattutto i voli di linea Sicuramente l'aerocoste Non te lo dà Poco ma è sicuro E soprattutto Sono dolori Con il tipo di assegnazioni Se dire Perché sappiamo appunto Che l'aerocoste Hanno una configurazione ridotta Per permettere Di fare tipo alle 6 La metropolitana alla mattina Che vedo Quei è un po' No dai La metropolitana alla mattina Alle 6 È così È uguale Perché tu c'hai in 60 cm Un Cristo come tuo marito Che ha alto l'ira di Dio Sai dove te lo metti Minimo di fare un corridoio Stiamo sempre a pregare Stiamo sempre a pregare il corridoio E per forza E devi averlo Perché gratuitamente Perché sennò Mentre con una compagnia di linea Tu questo problema Non lo hai di accettazione Esatto Sono queste le differenze Che tu devi avere Poi l'assistenza Anche qui Il viaggiare dei minori È molto importante Perché per dire Se si fa viaggiare Un bambino solo Come il minore Non accompagnato Si va in aeroporto E si deve dare Il nome di chi lo lascia E il nome di chi lo va a prendere Con un documento Di chi lo riceve Dall'altra parte Questo è determinante Ecco ricordatevi anche questo È una cosa Ecco appunto Parlare di viaggiare con bambini Questo è una cosa importante Poi se si hanno Se sono bambini Che hanno delle problematiche Di salute Ebbene Quando all'atto Di operazione In agenzia E non Siete tranquilli Che con i portali Non ce l'avete mai Queste cose Si chiamano SSR Sono suppresentamente Le information Che vengono date Ovviamente Dall'agente di viaggio Inserite nel pianare Insieme ai codici di operazione Viene informata La compagnia Che quel bambino Che so Ha un passo da ciriaco Che ne so Ha una Porta a bordo Una siringa Perché il bambino È diabetico Allora viene data L'informativa Al capo cabine E al comandante Che al posto 4 Charlie C'è un bambino Che ha la siringa Per il diabete Capito Queste sono cose Determinanti Che sicuramente Sui portali Lo cost Non trovi No assolutamente E sono fondamentali E sono fondamentali Sì Anche per noi Ecco perché Io dico che la gente Di viaggio Non lo sostituisce mai Perché io pure Il sabato sera Faccio la pizza O faccio i biscotti Ma non so Non pasticcere Nel pizzettaro Poco ma è sicuro Certo Bene Che ne dici Allora Ci aggiorniamo un po' Così diamo spazio Ad altri argomenti E io ti ringrazio Per questa intervista E questo spazio Che ci hai concesso E sicuramente Ne riparleremo Ne parleremo Altre Altre puntate Allora Uno spot pubblicitario E poi chiamiamo subito Gli altri partecipanti Che ci siamo Dilungati Ma era necessario Elisa Ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi Un abbraccio Alla prossima Allora 10-16-80 Oppure vieni in agenzia Da viaggio e vedo In via Bartololombo 1-A Bentornati Stiamo cercando Di collegarsi Con Lisbona Ciao Silvio In diretta Come stai? Bene bene Sono contento Come va Allata a Lisbona Qui c'è neve In Italia c'è neve Là? No A Lisbona Diciamo che Il tempo attena In questo momento Non sta piovendo Però Un tempo Un gradevole È grande Noi ci siamo Ci siamo divertiti Con Elisa La blogger A raccontare Un po' di tutto Abbiamo parlato di vacanze Con i bimbi Per ben più di mezz'ora Pensa abbiamo fatto Tanti argomenti Abbiamo toccato Senti Che fai le belle A Lisbona Dai Non è che t'hanno Cacciato via di casa No Allora Io sai A Lisbona C'è Antonella Di Ice and Travel Che ti ha detto Vai Silvio Sei tutti noi No Adesso È la mia fase Ci sono anche Gli applausi Qui su Ricordiamo a tutti gli amici Che è possibile Mandare un whatsapp Al 320 46 87 503 Sei in diretta Con il programma Allora Spara Che stai a farla Allora Io sono qui Con la promo service E siamo presenti Alla fiera di Lisbona BTL La borsa del turismo Di Lisbona Dove Con la nostra Società E il mio collega All'area general manager Paolo Maresi Cerchiamo di consolidare I rapporti Con i nostri Partner Che sono Di MSI Sparti in tutto il mondo Quindi Ci vediamo In tutte le fiere Adesso siamo a Lisbona Siamo stati invitati Da alcuni Di MSI Di fiducia E quindi Mi mostro Un lavoro Di approfondire Conoscenze Avere maggiore Maggiore E dare maggiore Professionalità E prodotti Alle agenzie di viaggio Nella modernità Con il mondo digitale Ma senti Un saluto a Paolo Glielo facciamo fare Oppure l'hai cacciato via No 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 Paolo sta qui Anzi È molto piacere Di salutarti Direi È il minimo Paolo Maresi È il general manager Aspetta È un amico del programma Voglio dire Paolo Ciao Buonasera a tutti Bella Paolo Ha visto che bello Ce l'abbiamo fatta A farti intervenire In radio Dovevi andare a Lisbona Per poter intervenire È grande Buonasera a tutti Radioascoltatori Grazie Grazie Mi fa piacere Anche a noi Qui c'è l'Antonella Che ti sta scrivendo Pure a te Fa l'applauso Guarda che Hai Molte cose Allora Carissimi amici L'ascolto Il lavoro di Silvio Del Paolo Cerco di spiegarlo Anche per i colleghi Agenti di viaggio Sono delle persone Che hanno Nel loro Diciamo Nell'arco Della loro freccia Delle esperienze Vanno a selezionare Operatori locali Delle varie destinazioni In tante parti del mondo Stringono degli accordi Importanti E di valore E mettendole poi Sulla loro piattaforma Che in questo caso È la Promo Service E permette a noi Agenti di viaggio Di proporre Dei prodotti Di qualità Possiamo dire Certificati da voi No Paolo Sì Io Su questo punto Dico sempre Che Disintermediare Per un'agenzia Noi Facciamo il B2B Quindi È molto È rischioso Ma appunto È importante Andare Da chi ha Un monitoraggio Quotidiano Importante Dei vari Corrispondenti locali Che nell'acronimo Per noi Sono DNC Destination Management Company E quindi È importante Questa cosa Così come Per un'agenzia È importante Andare dai tour operator Ed è fondamentale È anche importante Questi ultimi anni Quando il cliente Lo richiede Scusate la mia affonia È importante Anche Andare Andare appunto Dal Corrispondente A valerci Di professione Certamente Lo trovo Importantissimo E determinante Tant'è vero Che Volevo Sto cercando Perché ho montato Una canzone Dedicata A te E al mio Amico Del cuore Che adesso Vado a trovare Perché Non volevo Lasciarvi Da Lisbona Con un bellissimo Brano Che adesso Te lo dico Che vedrai Rimarai Sorpreso Sono I Gialis Dove Sei Meglio di così Ragazzi Ma tu ti rendi conto Che Che cosa ti ho fatto Per te E allora Sentiamo Un saluto a tutti Fate buon lavoro Ci sentiamo A ritorno E con Paolo E a Silvio Il mio lavoro Io dove sei I Gialis Ciao ragazzi Buon lavoro Buon lavoro Ciao 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 Paolo Allora ragazzi Dopo questa Di attirata Con Lismona Gialis Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Sarò Sarai Una fiamma Che riscalderà Saranno gli angeli Saranno i tuoi capelli C'è un buon profumo Dove sei 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 Sarò Sarai Una fiamma Che riscalderà Tu per me Tu per me Io per te Io per te Io per te Sto ballare Sto ballando Sto ballando Sui pezzi Di questa città Ho nel cuore Una luce Per te Dove sei Dove sei Disegno il tuo profilo Che esplode di colori Ritaglio la via Che Respiro senza Di te Mi sorprende Mi aggira Come in un luna park Come fa il vento Quando correndo Lo aspetto E divento Un messaggio Per te E qui Calma non c'è Festa sarà Pensando a te Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Sarò Sarai Una fiamma Che riscalderà Che riscalderà Tu per me Tu per me Io per te Io per te Sto ballando Sto ballando Sui tetti Di questa città Ho nel cuore Una luce Per te Dove sei Oh yeah I want you I want you baby I want you I want you Come with you All right Well there's a great holiday So Where are you Dove sei Dove sei Dove sei Sarò Sarai Una fiamma Una fiamma Che riscalderà Tu per me Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei La vacanza come piace a noi è Con il prezzo fisso Per non avere più sorprese Per me conveniente conveniente. Beh, come minimo deve avere tutto incluso, compresa l'assicurazione. È la vacanza trasparente a Sette Mari. Per tutte le destinazioni il prezzo è finito, senza adeguamenti e l'assicurazione Europa Assistance è inclusa. Quest'anno vola a Cuba e scegli uno dei Sette Mari Club, Iberostar Dai Chiri o Iberostar Tainos. Ci piace! Prenotiamo! Sette Mari, la vacanza trasparente, come piace a noi. E com'è trasparente il rapporto che c'è qui a Radio Vacanze e Viaggio Vito a tutti i colori del mondo con l'agenzia che ci ospita qui da Viaggio Vito, scusate il giro di parole, ma è così. Viaggio Vito è l'agenzia che ormai da più di vent'anni è qui in via Bartolongo 1 per fare il proprio dovere, è con i confronti del passeggero, dell'amico che si mette seduto davanti alla nostra archivania, con quel valore che ovviamente cerchiamo di dare ogni giorno andando a scoprire anche delle nuove realtà. Così come sto facendo, pregando appunto la regia di chiamarmi, un amico del programma Oberdan, è un nome molto particolare, ve lo ricordate perché è anche un produttore di vini e con lui voglio parlare di vini, ecco, spilla molto forte la regia, me lo fa apposta, io sono convinto che me lo fa apposta. Pronto? Oberdan, buonasera e benvenuto a Radio Vacanze, Viaggio Vito a tutti i colori del mondo, alla tua salute diciamo, via. Carissimo amico mio, cosa vuol dire fare il produttore di vino oggi? Io so che l'ho bevuto, ragazzi, ho bevuto il vino del mio amico Oberdan da paura, da paura, non nel senso che fa paura, nel senso che è buono, ma è vero, non è che ci vuol tanto, poi neanche mai pagato per la pubblicità, perciò vedi, sono proprio disinteressato. Dimmi pure, allora fare il produttore di vino oggi, un produttore di vino buono, che vuol dire? Vuol dire avere innanzitutto tanta passione, questa è la prima cosa e dalla passione poi bisogna anche produrre un vino buono, perché non basta alla passione ovviamente. No, certo. Diciamo che con molto impegno, con l'aiuto delle persone che hanno la conoscenza della tecnica, si riesce a ottenere un vino di buona qualità e soprattutto un vino sano. Questa è una caratteristica che in qualche modo deve caratterizzare i miei prodotti, l'originalità e un prodotto salvo. Ecco, tu hai questo proprio, che magari non fai una valanga di bottiglie, ma le fai giuste, buono, nella maniera corretta e che poi con un occhio molto importante anche al tipo di prodotto che viene fuori, no? Certo, chiaramente c'è un'aspirazione a migliorarsi sempre, però senza rinunciare a quelli che sono dei principi, che non sono solo principi così teorici, sono principi che si possono applicare, si può ottenere, si possono ottenere dei vini piacevoli, senza ricorrere ad alchimie e a manipolazioni. No, ovviamente, non è il tuo stile, poi chi ti conosce per carica. Senti, dai il tuo sito web alla radio, così magari, no? Sicuramente qualcuno magari interessato può venirla a vedere, se ci interessa. Il sito è www.muzighin.it, il nome così strano deriva dal nome della casa, è una casa che esisteva già nell'Ottocento e nei mappali è richiamata con questo nome, poi non so altro purtroppo. Eh va bene, ma sicuramente, poi mi mandi a meno, ci penso io, come diciamo sempre, a spalmarlo come la marmellata, ma guarda, c'è la pagina Facebook di Radio Vacanze, vai là, metti sulla foto tutto quello che vuoi, soprattutto anche la foto del tuo buonissimo vino di... Di visciole. Eh dai, vino parliamo ragazzi, vino non Sherry, ma vino è un'altra cosa. Sì, noi adesso, oggi con le regole europee e il termine vino sembra improprio, bisognerebbe dire vino e visciole, bisognerebbe dire, per dire correttamente. Io lo dico sempre, però, con le parole con cui, diciamo, la tradizione identifica quel prodotto. Certo. E una volta non c'erano queste regole, no? E quindi la tradizione lo assimilava di fatto ad un vino. Certo. Quello che è invece interessante è che ha delle caratteristiche organolettiche veramente uniche. Certo. E quindi è un'alternativa valida anche da grandi vini da dessert. Appunto. Allora, perciò, devono soltanto che assaggiarli e berlo. Cerchiamo sicuramente di fare una manifestazione qui a Roma, prossimamente, proprio nella sede della radio, così ci divertiremo insieme. Magari sì, eh. E poi invichiamo per una degustazione di quelli che vogliono. Sicuramente. Allora, io ti ringrazio per aver partecipato e sicuramente ci risentiremo intanto alla tua salute e della tua famiglia. Buon lavoro. Grazie mille e a presto. Ciao di nuovo, Alberta. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Allora, noi continuiamo la nostra chiacchierata con un piccolo spot e poi torniamo subito in trasmissione. Porte aperte tutto l'anno a Roma con Viaggio e Vedo e Casetta di Roma. Soggiorni a partire da 25 euro per persona a notte. Chiamalo 06 410 36 36 a nome di Radio Vacanze. Riceverai la guida di 32 tour su Roma da fare in libertà. E vediamo se riesco a portarvi da Roma alla Thailandia. Chiamando il nostro DMC Domenico, come dicevamo prima con Silvio Paravanti. Ecco, questo è uno dei contatti che Silvio ha portato in agenzia. E' un residente italiano, un residente lì. Buonasera, Domenico, scusa il ritardo, benvenuto in trasmissione. Sì, ciao. Abbiamo, ti ringrazio, sai, abbiamo cominciato a parlare di vini e qui è Macello, quando si parla di vini. Quindi si dilunga un po'. Allora, carissimo amico, tu, come dicevo appunto agli amici dell'ascolto, vivi e lavori in Thailandia, ma sei un italiano e lì hai formato appunto la tua azienda, che è appunto un servizio di recettivo per ospiti italiani. Diciamola così in maniera per farlo comprendere a tutti. Praticamente tu vai a prendere le persone che noi, come agente di viaggio, mandiamo in Thailandia. Esattamente, sono, diciamo, l'altra faccia dell'agente di viaggio. Siamo colui che praticamente soddisfiamo le richieste da parte dei nostri agenti in merito alle destinazioni del sud-est asiatico. In principal modo dalla Thailandia, dove noi siamo presenti da oltre 17 anni. E dunque, diciamo che hai fatto una bella scuola, non poco, ecco. Beh, mi dico proprio di senso. Siamo due soci di cui uno è molto esperto nella conoscenza della destinazione e io anche, in particolar modo, ho anche sulle destinazioni in Malesia. Ah ecco, questa è una cosa importante che sicuramente sarà scelta di un'altra puntata. Senti, noi diciamo sempre che in Thailandia ha due stagionalità, una per venirci d'inverno e una per venirci d'estate. Perlomeno questa, ce la puoi raccontare? Beh, io la cambierei un attimo questa informazione. Intanto la destinazione di Thailandia va bene tutto l'anno. Poi, se parliamo di destinazione mare, allora abbiamo due stagionalità monsoniche che sono appunto il lato delle andamane dove va benissimo nel periodo dell'inverno, insomma, il nostro inverno. Quindi a partire da ottobre fino a maggio inoltrato. Mentre il Golfo di Siam va benissimo nella stagione estiva nostra. Parliamo di Cosa Mui in particolar modo. Infatti, durante i mesi estivi nostri abbiamo una forte presenza di italiani sul lato del Golfo di Siam, in particolar modo, su Cosa Mui. Ebbè, questo è importante perché le persone fanno un po' di... Sai, quando io gli spiego qui, gli metto proprio la cartina per fargli vedere, vedo sempre che rimangono un attimino perplessi. Allora, dare una mano in questo è il minimo. Senti, un soggiorno minimo in Thailandia, io consiglio sempre almeno 9-10 notti sul posto. Secondo te è esagerato o è pertinente? No, se parliamo di solo destinazione, cioè dei famosi 4 giorni a banco va benissimo. Chiaramente, se vogliamo fare un soggiorno banco, un tour più il mare, dobbiamo aumentare intorno ai 14-15 giorni, sarebbe l'ideale. Ecco, sfadiamo anche un altro video. La Thailandia è adatta anche alle famiglie. In questa puntata abbiamo parlato molto di famiglie. Tu mi insegni che la Thailandia è adatta alle famiglie, è serena e tranquilla proprio da quel punto di vista. Allora, io molte volte, quando mi capita di incontrare, perché magari ho i miei assistenti completamente occupati, quindi mi tocca recarmi a incontrare dei clienti, io dico sempre una battutina, che anche in Thailandia le mamme hanno i bambini, allattano i bambini, quindi diciamo per dire proprio che è una destinazione che va bene per tutti quanti, per le famiglie, anche con bambini piccolissimi. Bisogna sfatare questo pensiero che la Thailandia possa essere pericolosa anche a livello di alimentazione, c'è di tutto. Oramai la Thailandia è abbastanza avanti, quindi tranquillamente ci si può recarare con bambini proprio piccolissimi. Ma io ne sono stracovinto, solo che volevo che anche tu confermassi la mia tesi, da quello che dicevamo. Senti, il tempo purtroppo è tiranno, però volevo con te prendere un appuntamento anche per quando tornerai giù. Faremo una bellissima intervista e parleremo sia di Thailandia che di Malesia, come direi, di Malesia. La faremo con un'applicazione che si chiama www.zoom.us e lo dico anche agli ascoltatori perché è una chat room video che permette di registrare anche le interviste. Dunque come vedi ci siamo attrezzati. Intanto ti salutano Silvio Palavanti e il nostro amico Paolo che sono a Lisbona, mi hanno mandato due SMA. Salutalo, saluto, stanno scrivendo alla lì dalla chat. Sono veramente bravi. Un saluto va anche a loro, un ringraziamento anche a loro per la loro disponibilità. Infatti il loro lavoro che continua anche con momenti abbastanza critici come questi qua, freddi, con neve, fanno sempre il loro lavoro. Quindi va anche a loro. Ecco, ti saluto anche Antonella dell'Agenzia Estrale di Pomezia. Sono tutti in collegamento gli amici qui. Qui l'agente di viaggio lo facciamo sul serio. Diciamo di vero. Beh, no, ne sono convinto, ne sono convinto. E spero di incontrarvi a più presto nella calda, caldissima Thailandia che mi manca tanto. ho oggi visto che sono a Bologna e qui c'è un freddo e tantissima neve. Ma comunque, anch'io devo fare il mio lavoro. Beh, direi proprio di sì. Allora, ci aggiorniamo sicuramente. Intanto ti faccio i miei auguri. Grazie per essere stato con noi e un saluto da tutti noi, dallo staff di Radio Vacanze, dalla Viaggio e Veto, da Piero e d'Alessandro che comunque sono esperti in destinazione. Un saluto da Domenico di Asia Traveling the State da Thailandia Bangkok. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Come vedete il mondo è molto piccolo qui a Radio Vacanze. Perciò il nostro claim. Grazie a tutti per essere stati con noi qui con Gianluigi a Radio Vacanze per Viaggio e Veto a tutti i colori del mondo. Abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato dell'Atlante, abbiamo parlato del viver bene, abbiamo parlato del bere meglio. Ma ero di così non poteva finire il nuovo gli auguri ad Alessandro e ad Antonella ai nostri sposini e vi do appuntamento. Ah no, manca una. Mi manca la mia Federica di Gastaldi, grande amica anche lei del programma. E sigla! hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Veto che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com Le foto di Enrico. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno oltre alle tue vacanze viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze Agenzia Viaggio e Vedo a Roma in via Bartolo Longo 1 zona Rebiglia telefono 06 410 1680 Viaggio e Vedo protagonisti del tuo tempo libero.